26 giugno 1967 muore don lorenzo milani nato a firenze nel 1923 in una famiglia della borghesia laica lorenzo si converte nel 1943 e viene ordinato sacerdote nel 1947 la sua vera missione inizia nel 1954 quando viene mandato a barbiana un paesino sperduto del mugello dove fonda la sua scuola aperta ai poveri e a coloro che altrimenti non si sarebbero mai avvicinati ai libri il suo saggio lettera ad una professoressa è una dura denuncia contro un sistema scolastico che favorisce solo le classi più benestanti il libro diventa una sorta di manifesto per i movimenti studenteschi del 1968 non lo sapevamo ancora